In via Santetani, ad Arezzo, c'è una buca profonda che è transennata dall'estate scorsa. Un rimpallo di responsabilità tra comune e nuove acque, ma sta di fatto che nessuno interviene. Dunque, sta succedendo che dall'estate in poi, è la terza volta che si verifica una frana, perché questa è veramente sotto una frana, cioè una buca di un metro e mezzo, è stata riparata due volte, ma in modo parziale. Ora, il problema è serio perché c'è un rimpallo di responsabilità tra comune e nuove acque. Loro stessi non sanno chi la deve riparare e qui ci sono 40 macchine chiuse quasi qua dentro, perché un ingresso di un mezzo di soccorso, di un'ambulanza diventa problematico. E quindi sollecitiamo o nuove acque o comune a mettersi d'accordo per riparare questa frana, perché sotto c'è sia acquedotto che fognatura. Quindi il comune dice che il problema lo ha causato nuove acque. Nuove acque dicono che a loro non compete riparare le strade, ma compete al comune. E noi siamo qui in attesa. Hanno messo un cartello ai primi di ottobre, da ora fino alla fine dei lavori, che c'è il divieto di sosta, però la fine dei lavori non è scritta. Qui quant'è che esce questa buca e nessuno se ne occupa? Per entrare e uscire da via Santetani le auto sono costrette a salire sul marciapiede. Per forza e poi stare attenti, perché quando posteggiano le macchine lì a filo, anche lo specchio, insomma, guardare bene chi arriva. Che arriva e chi entra. E chi entra, è chiaro. Come cittadina si sente un po' trascurata, immagino. Molto direi, molto.